Nell'opera degli Oliva ho voluto raccontare di una generazione di studenti che vivevano di passione politica e di militanza. Ho voluto raccontare dei grandi entusiasmi del 1976, della vita degli studenti all'Università di Messina, della presenza della drangheta in quell'università, delle violenze che c'erano e ho voluto raccontare la storia di uno di noi, di uno che ideologicamente era destinato ad alto e che invece venne risucchiato in una terribile faida che sconquassò la sua famiglia e il suo paese. Tutto all'interno di uno scenario naturalistico incommesurabile, bellissimo, che sono le foreste di uliveti che per secoli, per millenni hanno convissuto assieme e insieme agli uomini e che hanno visto delle tragedie in mani. L'opera degli Olivi è il racconto di una delicata storia d'amore, l'opera degli Olivi è la sinfonia della vita e della morte a cui noi tutti dobbiamo sempre confrontarci. Grazie a tutti.